con i suoi supermercati. Stagnavo nei giorni e guardavo in giro gli infiniti palazzi distinti che partecipavano alla vita fisica, con i suoi supermercati, i suoi pasti e le strade foderate di macchine. E venne l'infarto che mi portò ai confini della vita, dove il pensiero si esauriva. Fluì così nella vita astrale che mi rapì nei miei sensi astrali. Ma la morte fisica non si accordò con il non tempo dello spirito e sopravvissi. Adesso mi chiedo a che mi è servito l'infarto. Commento. A farti fare l'esperienza della vita astrale che comunque hai vissuto, che tu la ricordi o no.